Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato, l'astronave di Morris Neo sta per decollare, taglio del nastro oggi pomeriggio per l'ampliamento del Museo Pecci, per noi c'era Goffredo Gori. Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, il neodirettore Fabio Cavallucci e il progettista architetto Morris Neo presentano, raccontano le caratteristiche del nuovo museo, una struttura circolare che qualcuno ha paragonato a un'enorme astronave. Bene, l'astronave sta per decollare e lei è appena arrivato e entra in una struttura che si rinnova, questa è una grande responsabilità, è anche un segno, è anche qualcosa che guarda nel futuro, che cosa vede? Ma cosa vedo? Vedo un'importanza, l'importanza di questo fatto, siamo, Pecci è sempre, come dire, esistito da molti anni ed è una struttura storicamente importante, però siamo anche di fronte a un rilancio, un edificio nuovo, molto bello, attraente, che quindi attrarà anche visitatori, nuovo pubblico, è un programma che vorrà essere assolutamente importante sia per l'interesse degli artisti invitati, sia per il tentativo di creare veramente un centro innovativo a livello internazionale, è quello che cercheremo di fare nei prossimi mesi. Ecco, quel segno che sta sopra a tutto, io lo vedo come qualcosa di energia, quasi un fulmine alla rovescio, è vero? Può essere vera una cosa? Il titolo è Sensing the Waves, quindi è molto importante guardare il futuro, non guardare il bene. Guardiamo il futuro? Sì, non il passato, non il passato. Innanzitutto, in un certo senso, via via ci si sta godendo sempre quello che è stata la volontà da parte dell'architetto Neo di dare un taglio completamente diverso rispetto a quello che era la precedente costruzione del Pecci. E devo dire, indipendentemente dai differenti gusti e apprezzamenti, ma che non è qualcosa di banale, ma che ha una grande personalità, ne viene fuori vedendolo. Certamente impone, la città impone le riflessioni delle istituzioni, ha il ruolo da dare a un così... Una maggiore responsabilità. Esatto, a coloro che in qualche maniera si pongano il compito di come far funzionare questo grande museo che, secondo le volontà di tutti, deve diventare il centro per l'arte contemporanea. La cronaca è stata rintracciata nella notte il giovane che ieri pomeriggio ha ferito un uomo in via Mazzini a Prato. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 18enne quadroregno, residente in città. Sarebbe stato lui verso le 19 di ieri, insieme a un complice a colpire la gola con un coccio di bottiglia, un 43enne marocchino, anche lui residente a Prato. Il ferimento è scaturito al culmine di una lite avvenuta davanti al negozio di kebab in via Mazzini, davanti a decine di persone che stavano passeggiando nelle strade del centro storico. Forse tutto è scaturito da un tentativo di rapina. Durante l'acceso di Verbio, il 43enne è stato raggiunto alla gola da un fendente inferto con un coccio di bottiglia. Il marocchino si è accasciato a terra, perdendo molto sangue. Immediatamente in soccorso, l'uomo è stato portato in ospedale. Per fortuna non sono stati lesionati gli organi vitali. E ancora cronaca, è morta a poco più di due mesi dall'incidente la donna di 74 anni che lo scorso 26 febbraio fu travolta da un'auto pirata mentre attraversava la strada in via Galcianese, poco lontano dalla rotonda del Pino. La donna, dopo una lunga adegenza nel reparto di rianimazione del Santo Stefano, era stata trasferita da poco a Villa Fiorita per proseguire le cure. Purtroppo le complicazioni legate alle gravissime lesioni riportate nel sinistro hanno portato al decesso. Avvenuto questa mattina, la donna era stata investita nel tardo pomeriggio del 26 febbraio mentre stava piovendo. Incredibilmente, nonostante l'orario e il luogo, nessuno aveva assistito all'investimento e l'auto pirata si è allontanata lasciando la donna a terra in fin di vita. La soccorsa dal 118 era arrivata in condizioni disperate in ospedale ed era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Da allora la Polizia Municipale ha cercato inutilmente elementi in grado di risalire all'investitore. Gli agenti dell'ufficio sinistri hanno rintracciato un paio di testimoni che però non sono stati in grado di fornire notizie utili alle indagini. I familiari avevano anche rivolto un accorato appello alla cittadinanza ma nessuno si è fatto avanti. Il PM ha disposto l'autopsia e domani mattina sarà conferito l'incarico. Ancora quindi non è stato possibile fissare una data per i funerali della donna. Lasciamo la cronaca e parliamo della fattoria medici all'interno delle cascine di tavola perché la Regione ha dichiarato che non parteciperà all'asta prevista per le prossime settimane. Il servizio è di Claudio Vannacci. Si fa in salita la strada che dovrebbe portare la fattoria medici a delle cascine di tavola di nuovo in mani pubbliche. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino infatti la Regione non parteciperà alla prossima asta con base di 6 milioni e 260 mila euro che si chiuderà il prossimo 12 giugno. La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno per i tanti pratesi che sperano di poter veder rinascere l'importante manufatto mediceo intorno al quale sono già stati presentati una serie di progetti. Particolarmente preoccupati il sindaco Roberto Cegni e il vice sindaco e assessore all'ambiente Goffredo Borchi che confidavano nelle rassicurazioni degli ultimi mesi da parte della Regione Toscana che sembravano andare nella direzione di riportare a patrimonio pubblico un bene prezioso come la fattoria medicia. L'ipotesi che la Regione auspica che l'asta vada deserta per poi intervenire dicono Cegni e Borchi ci lascia perplessi e riteniamo quella presentata una strategia non condivisibile. C'è ancora tempo, insistano il sindaco e il suo vice, per un ripensamento e ci auguriamo vivamente che sia presentata l'offerta entro il 12 giugno considerato che il valore dei 6 milioni è una cifra sulla quale la Regione può certamente impegnarsi. Cegni e Borchi ricordano come una volta riacquistato il bene la sua ristrutturazione possa essere realizzata attraverso i progetti che il Comune insieme alla Facoltà di Architettura di Firenze ha già realizzato e che sono in grado di ottenere finanziamenti europei necessari al suo recupero e alla sua valorizzazione. La politica ora, illegalità cinese a Prato, il sindaco Cegni e la sua coalizione attaccano il premier Renzi, il ministro Boschi e il candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffoni per l'immobilismo su questo fronte dettato secondo Cegni e i suoi da motivi elettorali. Dal primo dicembre ad oggi non è stato fatto niente sul fronte illegalità cinese, solo grandi proclami. È possibile che un capo del governo tratti una città come Prato come una pedina del risico da conquistare con ricarri armati o che venga un ministro a preoccuparsi solo della propaganda elettorale anziché parlare dei problemi della città? Il sindaco Roberto Cegni è un fiume in piena contro Renzi, Boschi e Biffoni per aver trascurato il caso Prato e per le accuse di non aver rispettato gli impegni presi in campagna elettorale sul fronte legalità e sicurezza. Attacchi a cui risponde insieme a tutta la coalizione che lo sostiene con un elenco di due pagine sulle colpe della sinistra sul fronte distretto cinese. La visita di sabato del ministro per le riforme istituzionali Maria Elena Boschi che ha fatto tappa al museo del tessuto da Mattonella al comitato elettorale di Biffoni tralasciando secondo il centrodestra il distretto parallelo cinese via Pistoiese è stata la chiara dimostrazione di quanto il governo non voglia occuparsi di risolvere o allentare l'illegalità economica cinese. Quello che è nelle mani dell'amministrazione è stato fatto tutto il resto diventano semplicemente per ora chiacchiere che a seconda di quello che succede, tragedia o non tragedia c'è un impegno più o meno velato. Io sono abbastanza stufo, le persone vengano qua giù continuano a sollecitare il tavolo e deve spostarsi dal ministero dell'interno al ministero alla presidenza del consiglio il presidente sollecita, è impossibile che dopo una disgrazia del genere in una situazione del genere si possa rimandare di mesi la convocazione di questi tavoli ministeriali alla fine, dai primo dicembre a oggi che cosa è stato fatto al di là di quello che tutti i giorni l'amministrazione e la polizia municipale, tavoli interforzi locali stanno facendo? Zero. Rincara la dose il senatore Riccardo Mazzoni coordinatore provinciale di Forza Italia che ipotizza un accordo Renzi-Alfano per rimandare a dopo le elezioni la nuova convocazione del tavolo interministeriale sul caso Prato. Io pongo al governo questa domanda i problemi di Prato ci sono oggi da risolvere o ci saranno se e quando Biffoni vincere dalle elezioni, questo è il vulnus politico istituzionale perché questi signori se stanno agendo così stanno prendendo in giro anche il Presidente della Repubblica. E ieri in piazza del Comune a Prato protagonista Niki Vendola il leader di SEL sentiamo cosa ha detto. Credo che la cosa fondamentale sia avere la barra verso sinistra io sono stato eletto nel 2005 governatore con 13 liste con molte liste civiche con pezzi che venivano da tanti mondi e quello che è stato importante però è la direzione di marcia. Così Niki Vendola ieri pomeriggio a Prato per la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali ed europee del 25 maggio ha definito la posizione di SEL nella coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Matteo Biffoni rispetto alla presenza di persone vicine al centro-destra in due liste civiche. Per riconquistare il Comune il governatore della Puglia spiega al centro-sinistra che deve mettere la comunità perattese di fronte allo specchio affinché si possa vedere qual è stato l'esito di questo cambiamento promesso in maniera miracolistica dalla destra. La destra ha mal governato questa città è uno dei punti diciamo di peggiore amministrazione che ci sia oggi in questa regione. Con lui sul palco allestito in piazza del Comune la segretaria provinciale di SEL Nicoletta De Angelis è il candidato sindaco Matteo Biffoni la sua stretta avvicinanza a Renzi non è un problema per Vendola. Me ne parlano molto bene quindi gli auguro veramente di diventare il sindaco di Prato. Durante il suo comizio il leader nazionale di SEL ha sottolineato più volte la necessità che la sinistra torni a interpretare i bisogni dei cittadini per fermare la preoccupante espansione dei partiti neofascisti e neonazisti. Non ci sono più rendite di posizione bisogna oggi ogni giorno riguadagnarsi ogni singolo voto. Stamani a Prato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Scurri è tornato a parlare di difesa di Made in. Vediamo. Io penso che l'Italia sul tema del Made in sul tema evidentemente anche dell'immigrazione debba dire che o l'Europa si mostra quella che dovrebbe essere cioè solidale e quindi una organizzazione che tiene insieme le considerazioni di 28 paesi e quindi in questo tema anche per quello che riguarda l'Italia oppure anche noi dobbiamo minacciare di fare qualcosa di un po' più oltransista nei confronti di chi siede in Consiglio Europeo ma questo dipende sempre da un governo che deve avere cuore gli interessi italiani. È quanto sostiene Marco Scurri a eurodeputato di Fratelli d'Italia stamani a Prato per fare il punto su quanto fatto fino ad oggi in Europa per tutelare la produzione italiana e contrastare la concorrenza sleale temi cari al distretto Tessile Pratese. Il regolamento sul Made in è fermo in Consiglio Europeo bloccato dall'opposizione dei paesi del Nord Europa. Su questo noi ancora subiamo a Prato in particolare un'invasione di produzioni e di prodotti che provengono da fuori dell'Unione Europea a cominciare dalla Cina dall'India o da altre parti in una forma di concorrenza sleale vera quindi i prossimi cinque anni dobbiamo ritornare alla carica e speriamo di avere un governo che finalmente capisca quali sono gli interessi nazionali e che anche usando la presidenza italiana dell'Unione Europea da luglio ponga questo come elemento centrale e dirimente se non lo farà non sarà un governo che difende gli interessi nazionali. Sul fronte interno l'europarlamentare di Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza della presenza dello Stato e della Regione ciascuno per la parte di propria competenza perché il comune non può essere lasciato solo a combattere l'illegalità cinese sulla partita dei fondi strutturali stoccata la Regione Toscana. Molte volte però questi fondi rimangono fermi non vengono spesi anche a causa della burocrazia terribile delle nostre regioni e talvolta anche dalla volontà politica magari di indirizzare questi fondi verso comuni e territori amici piuttosto che territori e comuni amministrati in questo caso insomma dal centro-destra. Tg Prato si ferma qui vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.